Civil Week 2024, ci troviamo a Cinisello Balsamo in compagnia di Roberto. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Qui siamo a un evento di mercato e ci troviamo in un'associazione di Slow Food. Volevo chiedervi cosa fate, cosa farete per questa Civil Week e cosa vi aspettate. Allora, come Slow Food facciamo tante cose, tra cui anche i mercati. I mercati della terra sono il circuito dei mercati di Slow Food e sostanzialmente sono mercati di piccoli produttori agricoli che difendono sostanzialmente le tradizioni e la cura del prodotto come si facevano anni fa in maniera magari più moderna, ma sostanzialmente sono tutti prodotti della terra coltivati direttamente. Per la Civil Week abbiamo pensato di utilizzare il mercato che è una piazza fondamentalmente e di aggregare a questa piazza le associazioni o comunque le cose del volontariato di Cinisello. Infatti abbiamo qua in piazza il social market che si occupa della cura di persone indigenti, abbiamo il PUF che è un mercato di scambio di prodotti e che comunque esiste anche questo a Cinisello e poi il mercato vero e proprio che è fatto dai produttori. Quindi cura per l'ambiente, vicinanza del territorio insomma? Cura della biodiversità soprattutto attraverso il lavoro dei contadini che con il loro lavoro curano la terra e di conseguenza curano anche l'ambiente, la biodiversità e tutto quanto insomma. Grazie mille Roberto e buona Civil Week! Prego!